Musica Partecipo all'Over Evolution perché non ho paura di credere Per una volta sono io il protagonista Per andare controcorrendo Perché voglio rispondere con entusiasmo all'invito del nostro Vescovo Antonino Per far sentire la mia voce Perché la storia ci insegna che insieme tutto è possibile Perché tutta la città deve sentire il nostro chiasso Per condividere la propria fede Per fare nuove amicizie e creare legami forti nel tempo Partecipiamo all'Over Evolution perché tutto è dono Questo è il Palavocan 10 Reale Il giorno 15 settembre alle ore 19.30 sarà in festa per noi Grazie a tutti A presto Grazie a tutti Grazie a tutti.